Musica Siamo con Maria Teresa Zattoni e Gilberto Gillini, pedagogisti, scrittori, consulenti familiari e docenti emeriti del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II della Lateranense. E allora avete capito, parliamo di famiglia, ma io voglio partire proprio dall'inizio, cioè da quanto bisogno c'è per le coppie che si sposano, in particolare per quelle che si sposano in chiesa, di una formazione al matrimonio? Diciamo che è importantissimo che scoprano il sacramento del matrimonio perché nell'idea così generica e generale e purtroppo anche di molti preti è che il sacramento del matrimonio è dato quella volta lì sull'altare, è una specie di benefit che si porta, la coppia si porta a casa ma nell'albo dei ricordi, mentre dobbiamo riscoprire che il sacramento si sviluppa e diciamo cresce come un seme, cresce e diventa pianta, diventa albero nella concreta vita della coppia. Ma secondo voi c'è una preparazione sufficiente o a volte si rischia di arrivare all'altare con incontri un po' veloci, un po' superficiali, non abbastanza? Alcuni si stanno muovendo in questo senso, ma è sufficiente? Però secondo me un dato che è importante quanto questo che lei ci vuole suggerire è il fatto che non c'è una preparazione alla vita, il matrimonio è un'avventura, per quanto uno possa prepararsi avrà sempre delle novità e questa è una cosa molto importante che la coppia tenga presente, nella buona e nella cattiva fortuna, non c'è una cattiva fortuna che si possa prevedere, stimare, esorcizzare con un corso per quanto lungo, per quanto perfetto, per quanto formulato o tenuto da esperti di rango. La vita ha delle sue difficoltà, è un'avventura e questo anche nell'area cattolica lo si deve sapere. Il secondo dato è che io sono, ma grazie a Dio la cosa sta cambiando, da tempo immemorabile stufo che questi corsi si chiamano corsi per fidanzati. Cari fidanzati, quanti figli avete? Mi fa morire da ridere. Il sacramento è dato a chi lo chiede e le persone che lo chiedono sono nella posizione in cui sono. Gesù non ha mai avuto schifo della posizione in cui uno era per fargli la sua proposta, per annunciare il Vangelo. Nel tempo sono cambiati anche i protagonisti di questi incontri di formazione. Accanto alle coppie di fidanzati ci sono spesso coppie di persone conviventi da tempo che hanno deciso poi di sposarsi in chiesa in modo consapevole, non solo per un fatto di cornice. Esatto, infatti per esempio una delle cose che le coppie dovrebbero fare è dire ma perché volete questo sacramento? Cioè il sacramento è qualche cosa che si desidera, quindi ha alle spalle una esperienza precedente che va messa a frutto. Dopodiché, detto questo, allora il corso è importante, è importante che ci sia ed è importante soprattutto perché dia alla coppia che nel momento del fidanzamento è abbastanza isolata e vive l'amore come unicità della privacy. Nel momento dell'innamoramento. Dell'innamoramento, sì. Poi si possa sviluppare nella coniugalità, in una prassi come quella del corso che stiamo facendo qui, per coppie che continuano a sostenersi come coppia, che continuano ad avere una vita di coppia assieme ad altre coppie per capire sempre di più il loro sacramento. Ecco, voi inserite... C'è una alla lunga preparazione a godere il sacramento, a lasciarlo agire nella vita di coppia e questo è importantissimo. Dal punto di vista tecnico nostro tutto questo si chiama cura del legame. La cultura occidentale ci mette di fronte al più grande inganno oggi che è sempre più invasivo, che esista l'individuo, l'individuo non esiste, non esiste la persona slegata dai suoi legami come tanta cultura masmediale vuole farci credere. L'individuo che basta a se stesso è un'astrazione, è un inganno, per questo le coppie vanno accompagnate a curare il loro legame, che è la loro risorsa più importante. La relazione è fondamentale, quindi noi qua siamo a Soraga, in Val di Fassa, perché si sta svolgendo in questo momento in cui parliamo una settimana di formazione di Mistero Grande, che è una realtà che voi conoscete, che è una realtà che aiuta proprio le coppie e le famiglie a vivere l'amore e essere consapevoli del sacramento, così? Ma aiuta anche molta parte della Chiesa, la Chiesa che coglie le sollecitazioni che vengono da Don Renzo Bonetti per una pastorale che sia proprio così a supporto della vita di coppia verso il regno, verso un approfondimento del sacramento. Io ritengo che Don Renzo su questo sia capace di dare delle sollecitazioni a tutti, ma... Anche profettiche. Ecco. Ecco, ma torniamo allora sul discorso della formazione, perché sicuramente per le coppie che si preparano al matrimonio serve una formazione spirituale per chi si sposa in Chiesa, ma anche una formazione umana, ai valori umani, è così? Abbiamo appena detto, sicuramente. Sì, o soprattutto scoprire che la formazione spirituale, se è intesa correttamente, diventa anche una formazione umana. Quando noi prendiamo un passo del Vangelo, che può essere commentato da illustri esegeti magnificamente per la crescita spirituale di ogni persona, e ne vediamo le ricadute a livello di relazione coniugale, è chiaramente, diciamo, che la formazione spirituale è anche formazione umana, è anche formazione umana psicologicamente corretta e aggiornata. Ecco, e in questo percorso, in questa avventura, che è il matrimonio, che è la vita di famiglia, le famiglie si sostengono a vicenda, cioè c'è bisogno di avere il sostegno, una rete... Come diceva lei già all'inizio, queste coppie che vivono già il loro sacramento e che aiutano altre coppie, sia alla preparazione a monte del sacramento, sia a vivere, sono una grande risorsa per la Chiesa, ma non solo per la Chiesa, ma proprio per la società. Un matrimonio sano è una grande sicurezza, anche per la società, per il territorio, per il quartiere, è per quello che il legame tra famiglie è indispensabile. Nessuna famiglia basta a se stessa, altrimenti ricadiamo nell'errore che abbiamo appena denunciato, la famiglia isolata, la famiglia piccolo-borghese, la famiglia che è chiusa nel suo appartamento, dicevamo anche stamattina, appartamento è parola sinistra, è parola pericolosa. Che chiude. Ecco, che chiude, mentre dobbiamo imparare la casa aperta, non la casa allo sbaraglio, perché la coppia e la famiglia ha bisogno della propria intimità, che ha nulla a che fare con la privacy, ma la casa che è aperta ai bisogni, all'ascolto, alla relazione d'aiuto, alla capacità di accoglienza reciproca. Vorrei fare un esempio, per esempio noi proponiamo varie tecniche durante questi incontri, che soprattutto se l'incontro è un po' lungo e ce lo permette, non è la solita conferenza che non ci piace, che ci sembra poco fruttuosa. Succede che noi proponiamo degli esercizi concreti, allora un esercizio concreto è ciò che noi chiamiamo laboratorio, che da sempre abbiamo proposto nei nostri libri, dalmeno un benessere in famiglia ci sono questi laboratori. Nel laboratorio che cosa succede? Succede che quando ciascun membro del laboratorio, ciascuna persona che è convocata al laboratorio legge il testo e dice ma cosa vogliono questi qua? Io non so rispondere a queste robe, ma che cosa? Ma nel momento in cui si trova con altre coppie che tutti hanno in mano lo stesso problema, che cosa succede? Che l'input di un'altra coppia diventa per lui un input a trovare quello che sa già e a migliorare quello che sa l'altro. Per cui salta fuori che quello che diceva ma io non so niente, non saprei che cosa dire a questa coppia quello che magari ha trovato nel gruppo la soluzione che poi piace a tutti e fa crescere a tutti. Allora che cosa vuol dire? Che non hanno sempre bisogno di esperti, di psicologi, che certo corrono, non parlo contro me stesso, ma la solidarietà tra coppie, lo stare in autenticità davanti a un qualsiasi problema, fa sì che possa trovare corpo questa solidarietà tra coppie, che a noi sembra il punto fondamentale di sostegno della famiglia e del matrimonio. E così in questo modo magari anche una situazione di crisi diventa un'occasione di crescita, se però si è supportati, perché se si è da soli questo può provocare delle rotture invece. Di solito usiamo questa metafora, se la famiglia si concepisce come una zattera in un mare in tempesta facilmente affonda, non ce la fa, perché oggi c'è tutta una cultura contro il matrimonio, contro la vita della coppia, contro la famiglia, ma se tante zattere nello stesso oceano si collegano tra loro e fanno una piattaforma, fanno territorio e addirittura imprimono un orientamento anche alla società. E ci sarebbe bisogno di questo, di famiglie più presenti. È già in atto questo, in parte, in gran parte è già in atto. Se noi vediamo anche solo queste coppie che qui si sono spese a prepararsi per aiutare le altre coppie, stanno effettivamente adesso creando questi gruppi di lavoro dove... Questo esiste già, non abbiamo forse occhi per vederlo e voce per proclamarlo e celebrarlo. Dobbiamo dirlo. Dobbiamo dirlo, infatti dicevo, come arrivare a tante coppie che sono in difficoltà e che non sanno a chi appellarsi, magari cedono le armi in un certo senso? Tante volte anche solo sapere che una vacanza come questa può essere una vacanza è un corso, una vacanza è un'opportunità di crescita e non solamente, perché a volte ci sono delle vacanze che sono opportunità di crollo del matrimonio, della relazione. Certo, dipende da come si vivono le cose. Esatto. Ecco, sapere che ci sono luoghi come questo, secondo me, è già una grazia, e è già diffondere una cultura a favore della famiglia. Ma ce ne sono molti, non c'è solo questo incontro, ce ne avevamo prima quello dei gesuiti che inizia il prossimo sabato. A Caresto teniamo un corso. Abbiamo appena fatto un corso ad Assisi settimana scorsa. Quindi ci sono tante occasioni di formazione per le famiglie, se si cercano. E direi che c'è veramente un grande bisogno. Mi diceva il gesuita che la prossima settimana, diciamo così, all'organizzazione di questo corso di cui noi siamo i relatori, mi diceva che ci sono ben 36 famiglie in lista d'attesa, che non riesce a prendere... C'è molte richieste. Quindi la domanda c'è e ci sono tante opportunità. Dobbiamo imparare a riconoscerle. Ecco, voi avete scritto tanti libri, tra cui libri sul ruolo delle suocere, molto interessante, penso sul ruolo dei nonni. Ma ultimamente vi siete concentrati sui virus che possono distruggere, un po' come per il computer, no? Un virus ti fa saltare a un certo punto. Allora, cosa c'è che fa saltare e cosa invece aiuta a rafforzare l'unione? Circa un mese fa, a Siusi, all'hotel Villa Madonna, abbiamo tenuto un corso con questa scommessa. Noi presentiamo i virus e i laboratori fabbricano l'antivirus. Fanno l'antivirus in loco. E abbiamo imparato anche noi... C'è una ricetta. Abbiamo imparato anche noi, di solito i nostri corsi, come questo di Siusi, terminano con una sintesi drammatica dei lavori svolti, cioè i vari laboratori tramuttano in una sitcom, in una azione scenica, ciò che hanno trovato. E sono saltate fuori delle sitcom di una bellezza, sono state anche riprese. In una tecnica legata al teatro, diciamo, no? Perché le persone che agiscono, non solo con la testa, ma agiscono un dramma, un virus, e poi insieme fabbricano l'antivirus, cioè lo agiscono e mostrano come la coppia che era in quel conflitto, in quello stallo, in quella situazione... Riesce a reagire. Allora, virus e antivirus, quali sono? Sì, è capace di essere altore. I più, diciamo, comuni. Volevo solo aggiungere che questo corso di Siusi, per esempio, è continuamente frequentato sempre più da psicologi, da preti, da suore. Inizialmente era per le coppie, ma poi si è evoluto perché si cerca di imparare un metodo. Ci sono operatori che vogliono imparare. Poi ci sono coppie anche normali, si intende. Ci sono anche psicologi, medici, psichiatri. Ma ci sono tantissime... Ma in una parola, il virus più diffuso qual è? Quello che mette i bastoni tra le ruote. Questo è la high position. Ecco, è il virus a cui accennavo in fondo anche prima quel concetto di individuo. È il virus che pone l'io al centro. Pensare troppo a se stessi. Non entrare in relazione. Non è solo pensare, ma agire, se come centro dell'universo. Una volta il filosofo, il buon protagonista, tra i pressocati, diceva l'uomo è in misura di tutte le cose. Purtroppo oggi siamo andati molto più in là. Dio è in misura di tutte le cose. Allora due si dicono se tu non mi fai felice, cosa stiamo insieme a fare? Cioè l'altro diventa materiale per me, per farmi felice, con le migliori buone intenzioni del mondo, per rispondere ai miei bisogni, per curare le mie ferite, eccetera. Ma l'altro è per me. Quello è il primo virus. Da qui discendono poi tutti gli altri virus. L'ultima domanda, proprio in ottobre il sinodo per la famiglia. Tante cose, tante sfide che verranno affrontate. Come fare per ascoltare veramente la famiglia? Per? Ascoltare veramente la famiglia. Chi deve ascoltare? Perché la Chiesa ascolti la famiglia e possa quindi dare un messaggio. Direi con questi due sinodi, con tutto il materiale, le domande, i questionari che sono girati, volendo per certi aspetti anche troppo generici, però hanno raccolto abbondantemente il fatto che ci siano state così tante risposte, da più livelli e più punti di vista indica non che i Vescovi in sé si stanno muovendo, ma che la Chiesa si sta muovendo. E fino a prova contraria, la famiglia fa parte del popolo di Dio. E lì ci sarà una svolta preziosa che noi aspettiamo. Allora grazie Maria Teresa Zattoni e Gilberto Gillini per questa conversazione sulla famiglia e buon lavoro per quello che fate. Buon lavoro anche a voi. Grazie. Grazie.